Se hanno la certezza che gli assenti arrivano entro un determinato giorno, si regoleranno di conseguenza e potranno stabilire qual è la data del conclave. Cioè non è necessario che siano tutti presenti per stabilire la data di inizio del conclave, ma è necessario che ci sia il tempo per tutti quelli che vogliono venire di arrivare.